... Intanto entriamo in un mondo fantastico che è quello della scenografia e dei costumi e lo facciamo con Carlo Poggioli, costumista ma soprattutto presidente dell'Associazione ASC. Questa è la nuova rivista, un appuntamento importantissimo da non dimenticare come nasce l'idea di questa rivista che racconta davvero un mondo fantastico e anche uno spazio vostro che avete conquistato nell'arte unico. Sì, la rivista nasce appunto dallo sforzo di tutta l'associazione che rappresento che è l'Associazione Scenografia e Costumista e Redditori Italiani che addirittura è stata fondata 42 anni fa. Sono 42 anni che noi cerchiamo di salvaguardare le nostre professionalità organizzando poi dei corsi per gli studenti, facendo mostre in tutto il mondo e facendo grandi masterclass portando i nostri lavori, i nostri mestieri del cinema in tutto il mondo. Non solo, ci occupiamo anche dei nostri contratti nazionali in rinnovo che dobbiamo proprio ora in questi giorni sperare di chiudere perché siamo fermi a ben 20 anni fa. Che non è poco perché noi stiamo parlando di eccellenze che devono essere tutelate. Noi Carlo è stato, a parte anche, non lo so, per esempio di costumisti che hanno fatto costumi per Sorrentino da New Pop, soltanto per citarne l'ultimo che mi ricordo. Sì, l'ultimo infatti è New Pop. Dopo New Pop ho lavorato per Terence Malick, un film che abbiamo girato in tutto il bacino mediterraneo e che non so quando uscirà. E poi chiaramente altri film, Terry Gilliam, ho lavorato, sono stato assistente Gabriella Pescucci per Scorsese, per l'età dell'innocenza e tanti tanti altri. Una rivista ricchissima, se la sfogliate è veramente bella, Da zero alle origini di Roma, sono tanti anche i riporti alla nostra regione che naturalmente pulola di cultura. Esattamente, poi soprattutto è il punto centrale del cinema in Italia. C'è Roma... Questa rivista è stata dedicata soprattutto a Piero Tosi, grandissimo costumista che ci ha lasciato quest'anno e a Franco Zeffirelli che tutto il mondo conosce. Dove possiamo trovare questa rivista? Allora, questa rivista può essere, bisogna visitare il sito www.scenografiaecostume.it C'è l'abbonamento online, lo sforzo che abbiamo fatto è creare questa grande distribuzione mondiale e stiamo avendo anche dei grandissimi risultati perché c'è tanta gente all'estero che si sta abbonando. C'è l'abbonamento sia online che cartaceo. Chiaramente la rivista cartacea è meravigliosa. È tutta un'altra storia, davvero una rivista ricchissima che invito a leggere perché è davvero bella. E soprattutto è ricca della nostra arte, delle nostre eccellenze, di voi che siete davvero il fiorello occhiello della nostra cultura del mondo e della nostra arte nel mondo. E che ancora diciamo siamo famosi perché i nostri premi Oscar per i costumi e per la scenografia italiani sono veramente il fiorello occhiello dell'Italia. Perché siamo il secondo paese al mondo, dopo gli americani, ad aver avuto più nomination e Oscar per appunto la scenografia e i costumi. Carlo, ne parleremo ancora perché sono tante anche le iniziative, quindi ne torneremo. Torneremo insieme a scoprire ancora qualche segreto in più di questo mondo. Grazie per essere con noi. Ed è veramente tutto. Buongiorno Regione, torna domani, puntuale, su Rai 3, 7.30. Grazie per essere stati con noi e buona giornata. Grazie per essere stati con noi.